Ciao e bentornati sul canale, io sono Mizzar e rieccoci qui con un nuovo episodio di Hitman. Dopo che la casa è sulla spiancia, andiamo a vedere adesso quale sarà il nostro prossimo obiettivo per il nostro agente 47. Il caso è chiaro, i defectori di Providenza sono Robert e Sierra Knox, head di robotica di crema di Cronstadt Industri. Un'invento di visione e innovatore tecnologico, Robert Knox ha spiegato le crema di 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 crema. La sua figlia di bambina, Sierra, non solo un'azienda finanziaria, ma anche un'azienda di competizione di raccoglione, con un'amore di tempo per il nostro amore. Fav�장 è trovato profondo della ricerca fondamentale globale, ma la maggior è un'angeria fondamentale di crema di crema di crema di crema di crema della terminaria dell'�stoundramento e anche se non è ancora provato, non c'è dubbio che i Nox's personalmente rompono il negozio, rendendo loro complicitati in un crimine di guerra. Non è chiaro perché i Nox's potrebbero perdere i loro maestri, ma probabilmente il risultato di essere la prossima del cliente ha presciato loro a cercare un negozio con gli enemy. Non è chiaro, con i Kronstadt Industrii a loro parte, la militia aumenta i loro attacchi tenfold, e quindi il nostro contratto obbligate a noi a ritirare Robert e Sierra Nox e contenere i dimenticati che possono affrontare su Providenza. Io lascio a te preparare. Benvenuti in Miami, 47. La rata innovazione è l'ultimo giorno, e è sotto la via. La CEO di Kaowu ha preso una ruota dominante e sembra invenzibile. Ciara Knox dovrà rispare tutto se vuole per il terzo anno in un'anno. Le stagioni sono più alti come si possono essere. Perfetto ragazzi, siamo dentro al gioco. Adesso dobbiamo quindi cercare queste opportunità da poter esibire contro i nostri fatti perquisire. E che ho? Aspetta, fammi vedere. Non c'ho niente. Prego, prego, mi perquisisca. E di che, si figuri. Probabilmente potrò sabotare l'auto. Allora, raggiungiamo la nostra incuncina nel fondo. E attenzione, barichello! Allora... Signor Bonuomo, mi scusi? Ah, forse dovrei prendere il suo costume. Ok, quindi ragazzi, seguiamo, vediamo se riusciamo a... Se va da qualche parte interessante. Ecco, guarda. Le stancho di quella parte della sede. Guardate. Ok. Ok. Una macchina perfetta, uno dei meccanici di Cronastad ha inaspettativamente abbandonato la squadra come protesta e Grace Miller, l'inflessibile cavo per canico, sta disperatamente cercando un sostituto. Perché non ti presenti e offri loro i tuoi servizi? Sei bravo a usare la chiave inglese? Uh, molto bravo. Quindi, ecco qui, dobbiamo sistemare questo. Perfetto. Bello, bravissimo. Travestiamoci. Occultiamo il cadavere. Chiamiamo magnetica dell'edificio di box. Ok. E adesso dobbiamo raggiungere il box. Sul. Ok. Oh, no! sì sì salve salve i box sono da questa parte come il rimandello ma dai e come entro lì dentro ma c'è il bagno forse di qui server room security room ma io sui credo che questa sia la stessa cosa se infatti troviamo di qui un coltello a questo può tornarci utile e comunque non è di qui proviamo di qua scendendo le scale si è stato preso altre camere di sorveglianza ah ok vabbè sono un pilota non sto facendo niente perfetto siamo dentro adesso andiamo di qui trovo la chiave inglese eccola qui proprio a portata di mano mi abitizzati come un meccanico aspetta ma non è questa qui la chiave inglese no direttamente no questa è la pizza papagallo qua che c'è raccogli il sorpressore atomico come qua accogliamo può tornarci sempre utile disetteva il quadro forse è meglio di no probleme vuole di sicurezza dei box problemi di grace miller la capo peccarico della crostat secondo quanto c'è scritto girò voce che gli altri team commettono degli atti di sabotaggio per questo lei consiglia a tutti di prestare attenzione agli oggetti sospetti nel box chiunque dovesse notare problemi con le ruote o con la fornitura di carburante allora di riformarla immediatamente inoltre sottolineare la rigida linea di condotta per quanto riguarda le divise ognuno all'interno del box deve sempre tenere con sé i propri oggetti e che cacchio si salve solo io allora dovremmo poterci ad allentare sì perfetto è stato piuttosto facile adesso andiamo a sistemare il paparino allora robert si trova dall'altra parte quindi dobbiamo scendere e che cavolo direi che forse è anche il caso di cambiarci di cambiarci d'abito però direi che forse è anche il caso magari come security riusciremo ad entrare meglio allora è ancora dall'altra parte e come ci arrivo dall'altra parte permesso permesso salve sicurezza sicurezza permesso questa è l'uscita di qua forse vabbè no ci abbiamo il coltello ragazzi inutile andare a prendere armi inutili ok dovremmo esserci e tu quanto vuoi dire che ma non mi fai salire si però è un buon uomo eh cioè sono della security andiamo di qua che ci dice che ci suggerisce ah Ted Mendes non vorrei che qualcuno mi sgamasse qui comunque non dovrebbero vedermi eh che cavolo sta avendo il security di là vabbè però dobbiamo provare a a vestirci da questo allora il signor Mendes fa avanti e dietro qui proviamo a stordirlo ok ok perfetto perfetto adesso dovremmo riuscire a salire sopra uè salve anche a me si certo su per le scale su per le scale va bene va bene oh la card identità di Mendes hey what's up sì certo mi faccia a strada signorina vabbè senta faccio prima io eh hello hello there let me show you everything I'm gonna say insomma un po' come alla become human eh foto del manichino foto del manichino foto del manichino bersaglio B dove la trovo la tua foto allora io però ho la foto mia di Ted Mendes non di Robert Knox se non anche perché l'ho scansionata pure prima coltello chiave chiave martello cocco pistola cacciavite coltello ah no ero convinto di avere la chiave manichino manichino e manichino non c'è nient'altro scansione scansione foto scansione foto Ah Sì, abbastanza notevole And it's fully mobile, so you can deploy it anywhere Just stop So, as part of the deal, CronStat will throw in one deployment cell per five units Outfitted to enable on-site adjustments and calibrations, it'll be shipped in a bulletproof shell And can be dropped anywhere on the planet using the CronStat T-37 deployment drones So, if you have any questions or want to see anything again, just let me or McInnes know I'll let you hang out and look at everything Sì, magari così trovo la sua carta Braccio di androide, braccio di androide, cacciaviti Cacciaviti come se non ci fosse un domani Server room Forse l'ho trovata, ragazzi Cacciaviti Di Derek McInnes Chi è Derek? Dovete dire che nella foto Asomiglia a uno di quei scienziati di cartoon animati Ok Non è quello che cercavo Non è quello che stiamo cercando Probabilmente dovete trovare l'ufficio di Diclox Salve buon uomo, l'ufficio del suo capo Office ID Office ID Ah, penso che mi abbia preso la tessera Altro laboratorio Aspetta, che è questo? Foto di Robert Knox Uhhh Bene, 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 bene Con questa foto dovrei riuscire a usare la macchinetta Allora aspetta, 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 aspetta I'm ready for another demonstration Mr Knox Great Ted, great, I knew you were just playing hard to get Let's do it Perfetto Vediamo come funziona Questa tua bellissima macchina Dai, bello, forza, più veloce, forza Un, due, tre Un, due, tre Un, due, tre Cioè, ragazzi, voglio dire, abbiamo trovato la foto Vuoi mettere, ucciderlo con la sua macchina Piuttosto che con un coltello Sì, sì Sì, sì Mettiti in posizione Foto di Robert Knox Direi che non ha funzionato bene Direi che non ha funzionato bene Questa è chiusa Questa è chiusa Questa è chiusa È di qua Diregiamoci all'uscita più vicina Berlin Shanghai Montreal We're pleading operatives Panic is spreading And now we're axing our own Nox was a traitor He would have caused infunculable damage And he won't be the last This is exactly what the enemy wants We need to fight the sickness Not the symptom And I have just the tool for the job Right The Burnwood woman Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader I can handle Miss Burnwood Everyone hates power until you offer them some And then you oughta know ICA speaks the enemies language We need them And once we don't We'll cross that bridge when we get there Fact remains We are shadow boxing We need to know who we are up against I was getting to that His name is Lucas Gray The late Mr. Cobb's head of security Cobb was ground zero First of our operatives to die It had to be one of his staff Someone with military training And access to the plane Ah, grasping at straws Gray is a mercenary A veteran of every backwater tragedy You've ever ignored on the 5 o'clock news Chechnya, Sierra Leone The list goes on But before 89 Nothing No records of any kind Ah, come on CIA KGB Plenty of spies went dark After the curtain was lifted I cast a very wide net Lucas Gray simply does not exist If you're all quite done wetting yourselves with excitement I couldn't give two shits where he came from I only want to know one thing How does he know about us? I swear to God This hearts and flowers crap will get us both killed Can't you see? Your so-called friend is working for them now He's not the man you knew This is his fight too, Olivia Even if he doesn't realize it Like it or not 47 is our last and only lead on the partners He needs to remember He's coming for us And unlike you He won't hesitate Just get me inside Rico I need a favor I need a favor